E' questa la ribellione! Evander! Evander, Evander! Di Scorpio! Non lasciare la spada a me! Cario Spaximus, paladino della croccia del sud di sfida! Uomo di Siric, dove sei? Vuoi il duello col valore? Vieni a perderlo! Il potere delle mie mani! Nera luce, dinanzi a me, si avverranno per me! Uno dei miei, uno dei vostri! Continuiamo a giocare! Fratello! Vai! Non si scegliere! Sacro Nestronum! Capi le battaglie! È tutto il tuo fornitore! Noi, acque fatta! Non si barbe! Non si barbe! Silenzio, sto parlando con le varie! Venite, adesso. Dobbiamo cercare la statua di sciare. Ma io... andiamo! Dove avete lasciato la statua di sciare? Canius! Grazie! Grazie! Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Non è ucciso da un nemico inerme! Non colpire da un nemico inerme! Siamo fratelli! Siamo ribelli! L'ho visto io uccidere a sangue a te! L'omicidio non è accettato! Quell'uomo che ha ucciso! Ha ucciso uno dei paladini che avevamo catturato! E quell'uomo ha tagliato la testa! Ha tagliato la testa un uomo pelito inerme a terra! Grazie! 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 Grazie a tutti.